Adesso siamo in grado di collegarci con Mosca. Masotti, è in linea? Sì, per un paio d'ore almeno le notizie provenienti dalla regione di Celiabinsk, nella regione degli Urali, 1500 km da Mosca, avevano davvero creato un'ondata di panico. Frammenti di meteorite, tra poco vedrete una vera e propria pioggia, avevano provocato in contemporanea con le prime luci dell'alba, lampi e fragorose, violente esplosioni a bassa quota. Qualcuna era anche arrivata fino a terra a 80 km da Satka, sugli Urali e su altre regioni centrali della Russia. In un primo momento si può comprendere l'angoscia diffusa da questo annuncio, che è andato poi perdendo, ma solo in parte, drammaticità. I frammenti, infatti, nati dall'onda d'urto, hanno solo frantumato i vetri delle finestre in un megastore e in una scuola della zona, che sono rimaste danneggiate. Ma il numero dei feriti dalle schegge di vetro sta via via aumentando. Siamo circa 150, giovani studenti compresi, nessuno dei quali sarebbe grave. Seguiamo ovviamente l'evoluzione della situazione da Moscalini a Roma.